Quali sono i diversi tipi di test orali sui farmaci? I due tipi base di test antidoping sono test sul posto e test di laboratorio. I test sul posto forniscono risultati immediati in meno di 10 minuti e i test di laboratorio vengono analizzati in una struttura di test al di fuori del sito e possono richiedere diversi giorni o una settimana per l'elaborazione. Entrambi i tipi di test per droga orale richiedono un campione di saliva da acquisire dalla persona sottoposta a test. In genere, i test antidrogue vengono eseguiti da due categorie principali di persone, i datori di lavoro che devono verificare la sobrietà dei loro dipendenti e genitori preoccupati per il benessere dei loro figli. I test orali sul farmaco in loco consentono al tester di ottenere risultati immediati utilizzando un campione di saliva della persona sottoposta a test. Questo tipo di test orale è l'ideale per situazioni che richiedono una lettura immediata. Sono i tipi più comuni di screening dei farmaci usati per i test randomizzati sul posto di lavoro e test in loco da parte dei genitori per verificare la sobrietà del loro bambino. Inoltre, vengono utilizzati dai datori di lavoro immediatamente dopo che si è verificato un incidente sul lavoro al fine di valutare meglio se l'uso di sostanze è stato un fattore determinante nell'incidente. I test antidroga in loco possono essere utilizzati anche per rilevare il recente consumo di alcol. I test farmacologici orali analizzati in laboratorio sono preferiti per le situazioni che richiedono la verifica del potenziale uso di droghe per un periodo di tempo più lungo. Il campione di saliva viene raccolto nello stesso modo con un test in loco, ma viene quindi inviato a una struttura di test per l'elaborazione. I risultati richiedono in genere almeno una settimana per essere determinati, ma sono in grado di esaminare una più ampia varietà di farmaci. Questi tipi di test antidroga sono più comunemente utilizzati per screening pre-assunzione, consentendo al datore di lavoro di verificare l'abuso di droga passato e l'uso attuale. I test orali sui farmaci possono rilevare l'uso passato presenti di una varietà di sostanze, tra cui marijuana, cocaina, anfetamine ed ecstasi. In genere sono classificati come test antidroga a 5 pannelli o test antidroga a 10 pannelli, indicando il numero di sostanze per le quali il test verrà sottoposto a screening. Il periodo di tempo per il quale il test può rilevare l'utilizzo varia a seconda della sostanza. La maggior parte delle sostanze, tuttavia, viene testata per l'uso negli ultimi due o tre giorni. Test farmacologici orali sono preferiti su un test antidroga perché rendono molto più difficile manipolare i risultati al fine di creare una lettura falsamente negativa. Non sono così estesi come un test antidroga, ma forniscono abbastanza dettagli per soddisfare le esigenze della maggior parte dei tester ad un prezzo significativamente più basso. Inoltre, sono molto più semplici da somministrare rispetto ai test antidroga pur fornendo livelli di accuratezza molto simili per quanto riguarda i risultati.